Con le interpellanze di oggi abbiamo chiesto alla giunta regionale Marsiglio che fino hanno fatto due avvisi molto importanti che seguono la pandemia Covid. Il primo riguarda le micro imprese anche agricole delle prime zone rosse, quindi diciamo di Civitella, Penne, Farindola, Montebello, Picciano, Elice, ma anche la Valfino e Caldari di Ortona. Il centro-sinistra, il Partito Democratico, vuole lo stanziamento di 1.460.000 euro per venire incontro a queste imprese che non avevano potuto lavorare per le restrizioni del Presidente della Regione. 2.000 euro a piccole imprese. Sono trascorsi 500 giorni dall'approvazione della legge. 500 giorni non è stato emesso neanche l'avviso. Il secondo riguarda invece fotografi e attività pirotecniche. Anche qui sono trascorsi 300 giorni dallo stanziamento di 700.000 euro. Bene, quando in campagna elettorale parlavano di aree interne, di aree vestina, di micro imprese, di partite IVA eccetera, oggi invece 500 giorni e 300 giorni di attesa non è uscito neanche l'avviso. Poi ci sarà naturalmente bisogno del tempo della domanda e quello degli istruttori, che qui in Regione sappiamo che è particolarmente lungo. L'assessore Damari oggi ci ha risposto dicendoci che nel giro di 20 giorni potremmo vedere qualcosa. Noi seguiremo questa vicenda, speriamo veramente che sia così. Intanto raccomandiamo a queste micro imprese, ai nostri amici fotografi, di tenere duro ancora per altri 20 giorni e vedremo ancora la situazione.